Tu sei ciò che pensi di essere. Sembra una frase retorica, banale, ma è una grandissima verità. Quante volte nella vita, magari da bambino o da bambina, pensavi di fare una cosa giusta, ma hai trovato una persona che ti ha invalidato e ti ha fatto comprendere che tu non vai bene. Lo sbaglio tuo è che hai creduto a questa persona, pertanto hai creato un accordo tra te e questa invalidazione, che nel tempo poi ne hai creato un'altra, che ne hai creato un'altra, che ne hai creato un'altra. Pertanto c'è sempre questa voce dentro di te, che quando fai una cosa dici ma io non vado bene. Allora io ti dico che i più grandi geni del passato, le persone forti, hanno sempre creduto quello che volevano essere, perché quello che volevano essere lo sono diventati. Andy Warhol non era mica un artista, così nemmeno come Bacon, però avevano un'idea, volevano creare. E pertanto credevano nella loro creazione, perché l'amavano nella loro creazione. Allora devi finirla, devi finirla di non credere in quello che senti, devi finirla di non credere in quello che provi, in quello che dici, in quello che fai. Ma devi cercare di crearti una bolla di protezione, soprattutto per i tuoi figli, soprattutto per i tuoi amici. Ti devi circondare di persone che credono nei tuoi sogni, che credono di te. Allora la tua autostima può crescere, allora i tuoi sogni si possono realizzare. Ma se tu per primo hai dei dubbi, non ne metti energia. Ricordiamoci che la nostra mente è un fucile, ma sono le nostre emozioni da polvere da sparo. Pertanto se tu non hai un'emozione forte su quello che credi di te, che magari puoi essere anche importante o sicuro di te, nella vita non potrai mai fare niente. Ibrahimovic, ad esempio, è un esempio di un calciatore che crede in un modo pazzesco in se stesso. Può risultare antipatico, non importa, ma lui c'è, lui è nella sua emozione, lui è nel suo qui e ora. Allora, quello che ti voglio dire, dopo che vedi questo video, comincia a avere rispetto dei tuoi sogni, comincia a avere rispetto di te, comincia a avere rispetto di quella voce che ti dice una cosa. È lì che devi creare la tua strategia, è lì che devi creare la tua forza e il tuo punto di partenza. Mi raccomando, è importantissimo. Tra pochi giorni, l'8 di novembre, ci sarà questo bellissimo corso di autostima, dove parleremo di tutto quanto questo moltiplicato al 100. Tantissimi strumenti. Perché oggi più che mai, oggi più che mai, devi credere in te stesso. Oggi più che mai, devi incominciare a essere il primo tifoso di te stesso. Buona giornata. Credi in te, credi nei tuoi sogni e circondati di persone che hanno stima di te, non che ti invalidano. Ciao.